Mamme per le mamme Valdarno, un'associazione che ha lo scopo di creare una rete d'aiuto, un supporto, essere un punto di riferimento per le mamme che allattano. La mamma PIR affianca le mamme durante l'allattamento e le invia ai professionisti qualora ci siano delle problematiche. Uno dei nostri scopi è quello di promuovere una genitorialità consapevole, che è anche l'argomento poi di questa SAM 2019, che avrà inizio il primo ottobre e noi inizieremo con una mostra fotografica che si terrà al secondo piano dell'ospedale alla Gruccia con le esposizioni di foto che ci sono state inviate direttamente dalle mamme. Il 2 ottobre invece presso il consultorio ci sarà uno scambio culturale, proprio insieme in collaborazione con le ostetriche, riguardo appunto il tema dell'allattamento e la maternità per poi concludere sabato 5 ottobre alla mattina con un flash mob che si terrà in piazza Cavour a San Giovanni Valdarno, a cui invitiamo tutte le mamme a partecipare e nel pomeriggio ci sarà una conferenza riguardo proprio la genitorialità positiva, l'attaccamento, i vari servizi del consultorio e organizzeremo anche un laboratorio di lettura e di racconti di disegno per i più piccoli.